Alberto Donzelli, medico nonché presidente e coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute. Con altri medici avete richiesto un confronto scientifico aperto con il CTS. Su cosa si fonda questa vostra richiesta? Avete avuto una risposta. Grazie. Se lei mi consente una brevissima dichiarazione di assenza di conflitto di interessi che io premetto in genere quando parlo in pubblico. Credo che, ecco, questa è la mia dichiarazione. Sono stato già direttore del Servizio di Educazione alla Propiatezza e Medicina basata sulle prove della ex ASL di Milano, da pensionato da parecchi anni ormai lavoro a titolo gratuito e non ho conflitti di interessi da dichiarare. Come presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute dichiaro che ci reggiamo sul lavoro volontario e gratuito del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico che è fatto da una ventina di specialisti di diverse discipline e dagli autori delle pubblicazioni e che non presentiamo come fondazione conflitto ma allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale e della salute della comunità dei cittadini. Però siete tutti invitati a verificare che ci sia rispondenza, magari visitando il nostro sito e la nostra produzione tra quello che dichiariamo e quello che effettivamente corrisponde. Io credo che una dichiarazione di presenza o assenza di conflitti di interessi sia doverosa e che si debba esigere che chi parla in pubblico premetta una dichiarazione in proposito. La ringrazio e vengo alla sua domanda. Allora c'è stata un'accelerazione pazzesca qui assistiamo di decisioni a impatto sanitario fortissimo e questo in assenza di un dibattito sui loro fondamenti scientifici. La commissione medico-scientifica indipendente che si è costituita è formata dal professor Cosentino, farmacologo, dal professor Fraiese, endocrinologo, dal sottoscritto, dalla dottoressa Gentilini, oncologa e dematologa e dal dottor Serravalle che è pediatra. Gli ha chiesto al ministro della salute e al comitato tecnico-scientifico di attivare con urgenza un tavolo di confronto scientifico che potesse affrontare con priorità questi temi. Un confronto andando a analizzare gli scostamenti che hanno anche degli aspetti tutt'altro che rassicuranti della mortalità totale sia nei trial randomizzati con i vaccini moderni ai Pfizer sia agli andamenti della mortalità totale nel 2021 rispetto al 2020 e anche agli anni precedenti che compaiono sia sui dati stati italiani sia su quelli europei in Euromomo. Secondo punto che chiedevamo di discutere, il fatto che i vaccini non prevengono l'infezione come ormai è assodato, cioè la prevenzione all'inizio sembra che ci sia ed è anche buona nel primi due mesi, poi è modesta, poi diventa nulla e poi la novità è che diventa addirittura negativa, cioè inferiore dopo un certo numero di mesi a quella di chi non si vaccina. A questo proposito un cenno alle garanzie che vengono dati dalla trasmissione dell'infezione da parte di chi si sottopone al tampone antigenico rispetto a chi ha effettuato la vaccinazione con due dosi nel corso dei mesi di validità del Green Pass. Una valutazione della opportunità di vaccinare i bambini e del fatto che i bambini e gli adulti non vaccinati rispetto ai vaccinati non sono serbatoi come vengono definiti, descritti di infezioni, serbatoi di varianti che hanno ovviamente la possibilità di favorire la formazione di varianti come chiunque altro compresi i vaccinati e possiamo anche vedere poi se interessa questo concetto di precisarlo. E poi la sorveglianza attiva rispetto alla sorveglianza passiva che è quella che è in vigore in Italia e questa sorveglianza passiva sottostima in modo drammatico le reazioni avverse rispetto a quello che si pensa e che si può verificare se si fa una sorveglianza attiva. Vaccini contro il Covid-19, qual è oggi il quadro della situazione? Rischi e benefici? Cosa sappiamo? Questa è una domanda molto ampia che poi può trovare anche delle risposte specifiche nel prosieguo dell'incontro però ha detto bene cioè è necessario non considerare soltanto i benefici attesi perché poi vanno anche dimostrati quelli che si concretizzano realmente ma considerare anche i rischi che si traducono poi che si possono tradurre in danni e deve essere fatto un bilancio proprio un bilancio al netto dei danni quanti benefici avanzano o viceversa se è prevalessero addirittura i danni sui benefici. È una cosa che va fatta con molta serietà quando si affronta un programma di sanità pubblica e si fa una proposta di intervento universale perché una cosa è farlo nei confronti di un malato che sta male, che va dal medico e chiede una cura per alleviare la sua sofferenza e risolvere auspicabilmente la sua malattia e un'altra cosa è proporre addirittura come sta avvenendo imporre dei trattamenti universali a sani. In questo caso bisogna avere una estrema attenzione nello stilare un bilancio completo anche dei rischi e dei danni che si possono misurare già adesso e di quelli che se la tecnologia è nuova o relativamente nuova si possono verificare nel medio e lungo termine in base le informazioni di cui si dispone e solo alla fine si capisce se è necessario fare o no un trattamento universale. Quali scoperte voi avete fatto nel vostro comitato? Noi abbiamo per esempio per quanto riguarda gli effetti avversi di cui abbiamo adesso fatto cenno indirettamente abbiamo visto questo ecco e tutte le nostre produzioni sono pubblicate su questo sito cmsindipendente.it e se chi assiste a questo incontro vuol annotarselo poi avrà modo di andare a trovare materiali sia corrispondenti a questo incontro sia tantissimo altro materiale proprio visitando e navigando su questo sito. Allora per quanto riguarda la sorveglianza e vi ho detto sorveglianza attiva dà dei risultati che sono drammaticamente diversi rispetto alla sorveglianza passiva. In Italia si fa solo quella passiva poi vi faccio vedere un esempio di che cosa fa l'AIFA nel pubblicare quelle che sono le segnalazioni spontanee questo significa la sorveglianza passiva. I medici fanno delle segnalazioni degli effetti avversi dovrebbero farle per ogni effetto che si manifesta per ogni reazione anche se non hanno un sospetto definito che sia collegata alla vaccinazione questa almeno la normativa e gli stessi assistiti possono fare le segnalazioni. In realtà le fanno molto poco sia gli uni che gli altri sia perché la pratica per la segnalazione è onerosa in termini di tempo, non è facile, il medico che ha una routine altissima deve perdere come minimo mezz'ora per destreggiarsi, poi non viene secondo noi incoraggiato nel fare questo, il paziente non sa neanche come fare, non è stata fatta un'educazione specifica, non è sicuro che sia una sua prerogativa, mentre invece negli Stati Uniti vedete questo rapporto pubblicato in ottobre che potete trovare su internet, i CDC, i centri per il controllo delle malattie e la prevenzione non solo fanno una sorveglianza passiva ma fanno anche, anche se non la pubblicizzano molto, una importante sorveglianza attiva con il sistema che si chiama V-safe. V-safe vi faccio vedere quello che pubblicano per quanto riguarda gli adulti. Entrambi i vaccini a mRNA scritto in inglese evidentemente, dnt è Pfizer e l'altro mRNA 1273 è moderna. Allora, any injection site reaction vuol dire ogni reazione nel sito di iniezione. Vedete che ce n'è tante, in percentuale il 71% con la seconda dose di entrambi i vaccini a mRNA facendo un mix, è veramente tanto e se poi si va a vedere reazioni che possono essere più preoccupanti come l'affaticamento sistemico vediamo che anche qui ce n'è un 55-56% facendo un mix tra i due vaccini. C'è sempre una reattogenicità maggiore di moderna rispetto a Pfizer e anche lievemente più capace di suscitare delle risposte anticorpali maggiori. Ma se andiamo a vedere con riguardo a degli effetti che hanno impatto sulla salute, cioè sono gli effetti cosiddetti severe, gravi, di grado 3, non andiamo a vedere necessariamente quelli di grado 4 che mettono a rischio la vita ma accontentiamoci di vedere l'insieme di quelli di grado 3 e anche qualcuno poi di 4 che alla fine... Allora di grado 3 sono tantissimi, cioè la gente che non è in grado con la sorveglianza attiva conferma di non essere in grado di fare le normali attività quotidiane, vediamo che con la seconda dose di Pfizer sono il 20% e di moderna quasi il 33% che quel giorno o in quei giorni, che poi per alcuni si allungano anche per tutta la settimana perché il monitoraggio si fa per la prima settimana dopo l'inoculo, non riescono a fare più niente durante la giornata, se ne stanno a letto sul divano e non riescono a produrre nulla. Se lavorano non sono capaci di lavorare e vedete che con Moderna si arriva a 1 su 5 che deve mettersi in malattia, con Pfizer è un po' meno il 12,3% però si sommano questi agli effetti della prima dose che è molto meno importante però vediamo 5% che non riesce a lavorare dopo la prima dose, 20% dopo la seconda. Se andiamo a vedere gli effetti più importanti quando uno ha necessità di andare, di correre al pronto soccorso o di andare in ricovero ospedaliero, vediamo che anche qui sono apparentemente delle percentuali basse, ma se noi prendiamo queste percentuali e le applichiamo con una proiezione su 50 milioni di adulti, intendendo per adulti quelli di età dai 16 anni in avanti, ecco non in età pediatrica, italiani, vediamo che questo vuol dire 137 mila accessi in dipartimento di emergenza e circa 32 mila ricoveri. Questo è il fattore di moltiplicazione che è importante osservare, tra la prima e la seconda dose c'è un aggravamento che è di 2-3 volte tra gli effetti della prima dose e della seconda. Questo è il rapporto AIFA numero 9, non mi risulta che dopo questo, che arriva fino al 26 di settembre, ne siano stati pubblicati altri. Confrontiamolo con V-SAFE pubblicato il 28 di ottobre negli Stati Uniti. Allora il rapporto AIFA dice che ci sono 120 reazioni ogni 100 mila dosi di vaccino somministrate, 120 reazioni. In V-SAFE dopo la prima dose ogni 100 mila dosi ci sono 68 mila e 600 reazioni e dopo la seconda dose 71 mila e 700. Cioè se si fanno i rapporti il rapporto AIFA sottostima di 580 volte quello che rileva la sorveglianza attiva negli Stati Uniti. Vediamo, c'è da aver vergogna, c'è da aver vergogna. Se si parla di reazioni gravi, severe, con impatto sulla salute, uno dice beh quelle quasi 600 volte meno però saranno tutte le reazioni lievi. Non è così, addirittura c'è un paradosso, le reazioni severe sono addirittura più sottostimate, più di mille volte di differenza, addirittura vedete incapace di svolgere le normali attività giornaliere, l'abbiamo visto prima, 26.500 ogni 100 mila dosi, cioè questa è la realtà misurata con la sorveglianza attiva e vado avanti 16.100 ogni 100 mila dosi, almeno per quel giorno o per alcuni giorni non riescono a lavorare e si mettono, si chiedono al medico di essere messi in malattia e così via. I ricoveri, ve l'ho già detto, se si proiettano sulla popolazione italiana quello che è il risultato di V-safe si arriva complessivamente ad avere questi numeri ogni 100.000 dosi. 18.000 ricoveri alla seconda dose, 14.000 dopo la prima dose, scusate se si proietta, sui 50 milioni di popolazione italiana. C'è l'EMA che dice che ci sono effetti avversi in genere lievi o moderati e sono sottoposti ad attento monitoraggio. Ecco, che siano lievi o moderati forse è meglio vedere la situazione nel suo complesso perché è vero che numericamente quelli lievi e moderati sono di più di quelli severe, però sono imponenti anche gli effetti severe e che ci sia l'attento monitoraggio in assenza di sorveglianza attiva è totalmente da escludere. Questa è la situazione con gli adolescenti dai 12 ai 17 anni e si vede che anche in questo caso la situazione non è molto diversa da quella che abbiamo visto negli adulti, cioè tra i 12 ai 15 anni un 25% di reazioni con impatto sulla salute e dai 16 ai 17 anni 28,6%. Ecco, vi faccio le proiezioni su una popolazione di adolescenti italiani dai 12 ai 17 anni che è esattamente in base al censimento di 3 milioni e 400 mila ragazzi e incapaci di svolgere le normali attività quotidiane, ce n'è più di un milione, un milione e centomila, quasi 400 mila che se lavorano non riescono a lavorare e così via, fino a che se arriva ai ricoveri ci sono quasi 2 mila ricoveri e in effetti e quanto l'aneddotica già ci portava, l'AIFA sostanzialmente non rileva questi effetti perché il sistema di sorveglianza passiva non è assolutamente idoneo e noi chiediamo che sia immediatamente attivato quello attivo che è quello che ha effetti che sono simili a quelli che si rilevano negli studi registrativi. Quindi se uno guarda lo studio per esempio del vaccino Moderna, loro dicono nell'abstract che gli effetti avversi sono stati assolutamente normali, così tollerabili, prevalentemente lì eri o moderati, allora vi faccio vedere su una bilancia perché ho parlato di bilancio e mi sembra il caso di vederlo proprio rappresentato anche figurativamente, cosa succede? Allora ci sono stati 1243 ragazzi nel gruppo placebo in cui gli inoculavano un'iniezione di salina, di acqua salata e 2400, quasi 2500 ragazzi che invece hanno ricevuto il vaccino Moderna. Quelli del gruppo placebo hanno avuto 4 casi sintomatici di Covid, quindi il vantaggio del vaccino sarebbe, ammettendo che siano il doppio come numero quelli del gruppo con vaccino, invece di 4 8 casi sintomatici in meno e non si parla di ricoveri, si parla di casi che hanno manifestato dei sintomi. Dall'altra parte quasi 5000 reazioni avverse locali di cui quasi 400 severe e notate che le reazioni locali sono tutte da ascrivere al vaccino, perché mentre stiamo parlando non è che vi spunta un dolore sulla spalla, perché? Perché nessuno vi sta inoculando un'iniezione dicendo che non si sa che cosa c'è dentro, se il vaccino o il placebo. Se non vi inoculano niente, non vi succede proprio niente, quindi quelle quasi 5000 reazioni avverse sono tutte vaccinali. Un po' diverso per le sistemi che alcune si verificano nel corso degli otto giorni in cui c'è l'osservazione, si verificano dei casi di febbre spontanea, di mal di testa spontanea, però 386 sono gravi e molto superiori a quelle che si verificano nel gruppo placebo. In più ci sono stati tre ricoveri e i tre ricoveri non possono essere considerati delle basecole, ci sono stati solo nel gruppo dei vaccinati. Quale effetto dalle continue dosi inoculate sulle difese immunitarie? Vi faccio vedere che cosa succede con il vaccino nei confronti dell'ultima variante, la Omicron, e prima ancora nel caso dell'Inghilterra già era iniziato con la Delta. C'è un decadimento delle capacità immunitarie di rispondere o se qualcuno ha una spiegazione migliore a quello che vi mostrerò me la dia. Allora questa è la situazione inglese, vedete UK Security Agency, e fa vedere che già dalla settimana 36 dell'anno scorso, che era a metà di agosto, si vede che c'è una singolare inversione in determinate fasce di età. Dalla età dei 40 anni fino ai 79, di ogni quadrato, succede che i vaccinati con doppia dose invece di essere più protetti dall'infezione hanno più casi positivi rilevati, più 766 circoscritti in questo gruppo di età, mentre in tutta la colonna sono ancora in vantaggio, hanno un 17% in meno di infezioni, ma uno si aspettava chissà quanto in meno, 17% in meno rispetto ai non vaccinati. Però alla settimana 43 in ottobre si arriva alla svolta completa, anche considerando l'intera colonna dei vaccinati con dose doppia, 100.000 per ogni classe di età, confrontati con 100.000 non vaccinati per ogni classe di età, quindi è un confronto molto equilibrato, si arriva che i vaccinati hanno più infezioni, non solo nelle classi di età riquadrate, sono quasi 3.000 in più, ma anche in totale, un 2,5% in più di casi positivi totali. E poi il trend continua in effetti, prosegue, a un certo momento introducono le terze dosi, a partire dall'età più anziane, mettono un pochino di freno, ma non riescono mai a invertire questa tendenza incredibile e si arriva alla seconda settimana di quest'anno, guardate un po', dove si ha un quasi raddoppio di infezioni tra i casi vaccinati rispetto ai non vaccinati, facendo la somma di quello che accade, in queste classi di età sono 8 classi, 100.000 per classe, diciamo 800.000 soggetti da una parte, 800.000 dall'altra, bene, i vaccinati hanno 18.524 infezioni con sintomi o comunque rilevate in più rispetto ai non vaccinati, quindi moltissime in più e poi nella settimana 4 le terze dosi o comunque la vaccinazione anche nei confronti dei giovani arriva momentaneamente a tamponare, ma non inverte mai la situazione, la tampona perché le terze dosi danno un rialzo della protezione, ma anche questo come si vede è un rialzo transitorio, ci troviamo ancora, la quinta doveva essere pubblicata stasera, non è ancora uscita, ci troviamo ancora con un 32% in più di casi positivi tra i vaccinati, ormai non c'è più dubbio e allora vediamo com'è stata invece la situazione in Danimarca, è ancora più chiara perché si rende con dei grafici, nel primo mese i vaccinati nei confronti di Omicron hanno una protezione mediocre perché con Delta era molto più alta, qui è un 55% soltanto, ma cosa succede tra il secondo e il terzo mese? Piomba al 9%, cioè non è più statisticamente significativa, alla fine dei tre mesi è zero e dopo i tre mesi, dopo i tre mesi è sotto zero, ma tanto, questo col vaccino Pfizer si arriva a meno 76,5% per essere precisi, al di sotto del livello dei non vaccinati e quindi con una situazione del genere che vi rappresento con questo grafico unito con una retta, il punto iniziale e il punto finale non è proprio perfettamente così ma si capisce che la protezione in una situazione del genere in una media di quattro mesi arriva zero e tende a peggiorare, cioè con questo vaccino e si ha il coraggio di inoculare i bambini ma se i bambini ci fosse una vaccinazione che già si vede che per loro, abbiamo visto prima con gli adolescenti non c'è un bilancio favorevole, assolutamente, però uno diceva, ma almeno così si toglie il rischio di infezione per i fragili, per i nonni, ma questo lo toglie per due mesi, dopodiché si va praticamente a zero e poi sotto zero, per cui questi bambini con la nuova variante rischiano di essere un problema quando si vaccinano per la comunità a partire dai loro nonni, quindi assolutamente e poi la vision, cosa si pensa di fare? Di rivacinarli per tutta la vita? E' questa la prospettiva che abbiamo in mente, forse per i produttori di vaccini sì, ma non credo che sia quella che la comunità dovrebbe volere per i propri giovani e i genitori per i propri figli e anche si ha il coraggio da leone di dire che un tampone antigenico ogni due giorni proteggerebbe meno del vaccino, ma cioè proteggerebbe, darebbe delle garanzie inferiori a quelle del vaccino, non è vero perché per quanto scadente sia la protezione del tampone antigenico che non è poi così scadente, nel senso che perde un caso su quattro di positivi. La gente dovrebbe essere informata che non è che quel test antigenico negativo vuol dire che sicuramente non è infettante, per cui se si avvicina a dei fragili dovrebbe mantenere bene le protezioni, però ha delle probabilità quando l'ha fatto il 75%, ammettendo anche uno sproposito che perde il 5% al giorno, arriva alla fine della seconda giornata che è il 65%, la media è il 70%, è meglio il 70% o 0? A casa mia è meglio il 70%, quindi la protezione che dà il vaccino se non in quattro mesi, in sei, è 0, addirittura se si va a tempo indeterminato è sotto 0 e quindi non c'è confronto, ma nel senso che dà una garanzia maggiore il tampone antigenico, ma anche se venisse fatto, se si ritenesse di doverlo fare sul luogo di lavoro ogni settimana, ma dà una protezione comuna, una garanzia maggiore. Questo qua è il Canada per far vedere che non è che la Danimarca è un caso isolato, qui addirittura fin dall'inizio in Ontario è peggio, è la provincia del Canada che ha fatto questa ricerca, è l'unica che mi risulti in Canada, è già non significativo al primo mese, al primo mese già non è significativo, è sotto 0 non significativo, già tra due e quattro mesi, a tre mesi, a cinque mesi, tra quattro e sei mesi è significativamente sotto 0 e peggio ancora a sette mesi. Poi risale un po' ma mi ha spiegato perché ho scritto all'autore che non è che sia, che lui ritenga che ci sia una diminuzione, fermo restando che è sempre sotto 0, ma è che sono i soggetti che hanno più distanza dalla seconda dose, che non hanno ancora fatto la terza ma sono più distanti dalla seconda dose che sono praticamente tutti un residuo di persone in case di riposo che non ha ancora fatto la terza dose e un residuo di sanitari che non ha ancora fatto la terza dose e questi sono preoccupatissimi e quindi stanno molto attenti, è perché sono stati molto stressati e quindi hanno un pochino di risalita ma è roba da poco come vedete, per cui con questa prospettiva noi invitiamo veramente il Premier Draghi, il Ministro Speranzi, il Generale Figliuolo e chi li consiglia di non continuare più a insistere per vaccinare, a estendere gli obblighi, si devono fermare, abbiamo ancora fuori i bambini o degli anziani che non hanno intenzione di vaccinarsi, bisogna rispettare la loro decisione posto che agli altri non cambia nulla, anzi a medio termine, a lungo termine è meglio per la comunità quasi che non si vaccinino come si sta vedendo con la Omicron. In merito a queste massicce vaccinazioni alcuni hanno rilevato un aumento della mortalità nelle persone che si sono fatte inoculare il vaccino. Avete voi i riferimenti? La premessa che faccio è che bisogna sempre fare riferimento anche e prima di tutto alla mortalità totale perché ci stanno facendo la testa gonfia continuando a dire che chi non si vaccina muore di più, come se non muoriste di più in generale, muore di più per Covid. Questo nei primi mesi dopo la vaccinazione è vero che la vaccinazione protegge per un certo numero di mesi dalla malattia più grave dalla mortalità, ma non significa che questo vuol dire che muoiono di più i non vaccinati, è una cosa che bisognerebbe andare a vedere. Adesso vediamo i confronti equi che cosa ci dicono. La mortalità totale è importante da valutare sempre perché è meno soggetta a degli errori di codifica perché nella mortalità da Covid per Covid ci sono tanti errori di imputazione e comunque è quello che conta di più per la gente. Non credo che una persona avrebbe in mente di dire dottore mi manca poco da vivere, mi dica la verità, il medico dice tranquilla non è Covid? Oh grazie, adesso sì che muoio contenta. No, muore non è mai una bella cosa evidentemente. Uno non aspira a morire di qualsiasi cosa anche prima purché non sia Covid. No, aspira a campare a lungo e in buona salute possibilmente. Quindi se gli mettono su un piatto della bilancia che può campare di più sceglie quel piatto lì in genere. E poi guardare la mortalità totale consente di dimensionare i rischi e i timori. Ad esempio senza pandemia in Italia ogni santo giorno muoiono quasi 1800 italiani nel periodo pre-pandemico, ne morivano quasi 1800, di cui 250 circa a causa del fumo, 240 certificati dall'Istituto Superiore di Sanità col suo rapporto per insufficiente attività fisica, 190 per inquinamento dell'aria, circa 300 perché non si mangia la fibra dei cereali integrali, si mangiano cibi raffinati eccetera. Allora indubbiamente intervenendo su questi fattori di rischio si eviterebbero una quantità di morti competitive con quelle che sono attribuite alla Covid. Oltretutto questi fattori di rischio stanno anche sotto alle morti da Covid perché determinano l'obesità, il fumo, le malattie croniche, il diabete, le cardiopatie, tutto quello che favorisce la gravità e la letalità della Covid. Però a nessuno viene in mente di dire al fumatore lo chiudo in prigione, butto via la chiave fino a quando non si è messo in astinenza, non lo lascio uscire o non lo lascio salire sugli autobus perché continua a fumare quando sta fuori dalla fermata e non lo lascio fumare in mezzo agli altri, questo però la legge non si spinge fino a impedirgli di fumare, chiudere le tabaccherie, multarlo, non lasciarlo andare dal parrucchiere perché non fa attività fisica, frustarlo per trascinarlo ogni giorno a fare la dose raccomandata di attività fisica. Non è che si chiude la gente in casa con le sirene e si blocca tutta l'attività produttiva quando viene superato, com'è in questo periodo invernale, ampiamente il livello di inquinamento di parti per milione di polveri sottili. Non è che se uno viene sorpreso che sta mangiando una spiegattata non con la pasta integrale viene multato perché non mangia integrale. Allora cerchiamo di avere un po' di capacità di fare due più due anche rispetto a chi fa una scelta che è stata demonizzata come se fosse una scelta che lo rendeva untore degli altri. Abbiamo visto che con la Omicron questo non è più assolutamente vero, era relativamente poco vero prima, ma non lo è più adesso e quindi proprio questi divieti non hanno più ragione di essere. Questa è la situazione della mortalità totale con Euromomo che è un network dove afferiscono i dati di 32 paesi europei, 31 europei e Israele. Vediamo che la linea più azzurra chiara che è quella del 2021 complessivamente è andata un pochettino meglio rispetto al 2020, è vero. Però quali sono le classi di età che hanno avuto a livello europeo un miglioramento? Sono state le classi di età anziani, vedete soprattutto dai 75 anni in su e dagli 85 in su c'è stato, cioè dai 75 relativamente poco, c'è stato il miglioramento nei grandi anziani almeno a livello europeo, ma nei giovani cosa è successo? Vediamo che mentre per i bambini non c'è stato un vantaggio chiaro, all'inizio la mortalità nel 2021 era molto più bassa, poi quando sono iniziate le vaccinazioni dei genitori qualcosa non si sa. Comunque c'è un'associazione strana che qui le curve invece di seguire quella dell'anno prima diverge e sale, è una cosa strana. Nel 2021 se andiamo a guardare le classi dei giovani adulti o quella degli adulti di mezza età vediamo che c'è un chiaro vantaggio del 2020 rispetto al 2021, sono morti di più in Europa nel 2021 e poi nel complesso c'è stato un vantaggio del 2021 sul 2020 perché la gente che muore in età avanzata è di più di quella che muore nell'età giovane adulto e nella mezza età. Però c'è qualcosa di fortemente anomalo qui che merita, come noi abbiamo chiesto, di essere indagato con urgenza. Possiamo dire che Omicron è realmente una variante molto molto più tranquilla e più umida rispetto a quelle precedenti. Questo dottore vale per tutti quanti sia per i vaccinati che per i non vaccinati. Assolutamente sì anche se si cerca di fare un'operazione che non è scientificamente corretta di dire che il non vaccinato rischia molto economico, non è assolutamente vero, rischia poco perché anche lui come il vaccinato ha questo virus, questa variante che non ha un enzima, il Tampress, che consente di arrivare nei polmoni, quindi si ferma, si ferma in gola con un mal di gola e quindi non arrivando nei polmoni non dà l'aggravamento, la disnea. Cioè quelli che vanno in terapia intensiva ancora sono gente che si è ammalata, qualcuno ce n'è molto defedato, ma sono gente che si è ammalata con l'Alfa. Noi non dimentichiamo che l'8 di dicembre la Omicron era lo 0,5% in Italia, era ancora dominante, scusate ho detto Alfa, la Delta, era ancora dominante la Delta, quindi tanta gente si è infettata con la Delta, ha avuto un decorso non favorevole, si trova ancora oggi a morire perché la Delta è stata spazzata via solo nelle ultimissime settimane, è rimpiazzata completamente o quasi dalla Omicron. Adesso tenete conto di uno studio in California che vi ho riportato qua sotto, i ricoveri sono meno della metà rispetto alla Delta e quelli che si ricoverano hanno ricoveri del 70% più brevi, cioè due terzi meno di durata del ricovero quando c'è un quarto degli accessi in terapia intensiva e 11 volte meno letalità che è la morte di chi è positivo e infettato. Quindi sicuramente non è ancora un raffreddore, ma si può guardare soprattutto se si conoscono anche delle terapie precoci che d'accordo col medico di famiglia si possono instaurare subito, si può guardare con molta serenità a quello che è il prossimo futuro. È vero che oggi le terapie intensive in Italia sono occupate quasi esclusivamente dai Novax? Vediamo una definizione di Novax così ci mettiamo d'accordo, perché se guardiamo quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità questi sono i Novax, sono i primi tre categorie, cioè i Novax ma neanche le prime due, cioè la gente pensa che il Novax è quello che non ha fatto neanche un inoculo, l'Istituto Superiore di Sanità dice che il Novax è quello che ha fatto anche il primo inoculo ma non è arrivato alle due settimane dopo il primo inoculo, poi da una terra di nessuno in cui è quello che ha avuto il secondo inoculo ma da meno o anche appunto ha fatto la seconda dose ma da meno di 14 giorni e poi si va a qualcosa che viene non considerato assolutamente, non vaccinato dall'Istituto Superiore di Sanità ma che invece viene considerato tale da tante periferie, tante terapie intensive, io non ve lo dico semplicemente senza portare le prove, ve le provo, cioè questa è la regione Piemonte che dice alle ASL che per non vaccinati si intende quelli che non hanno completato il ciclo, cioè chi non ha fatto la terza dose, a questo punto i non vaccinati sono ancora la maggioranza, capito? E lo erano soprattutto un po' di tempo fa, il professor Torti che è il direttore delle malattie infettive del Policlinico di Catanzaro lo ha detto a RAI3, ha detto ora sappiamo che si considera un paziente vaccinato solo se ha ricevuto anche la terza dose, è chiaro che se questi comunicano i dati così all'Istituto Superiore di Sanità che non è lì a vedere se gli dicono non vaccinato, lui prende non vaccinato e lo mette tra i non vaccinati, non vi basta? Allora vediamo a domenica in che cosa ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani che è l'istituto scientifico più famoso anche per la Covid a Roma e lui interrogato da Mara Veniera ha spiegato che va fatto in coloro che hanno avuto la dose booster, cioè la terza dose, le persone ricoverate in ricovero ordinario per oltre il 90% sono non vaccinate o vaccinate fino alla seconda dose e quindi questi vanno considerati non vaccinati secondo Vaia. E' chiaro che se lo Spallanzani dice così è chiaro che i Novavax diventano tanti e diventano tanti. Possiamo dire che l'omicron come sostengono molti esperti è il colpo di coda di questa pandemia? Io sono tra quelli che lo sostengono anche se ovviamente la sfera di cristallo non ci dà la facoltà di chiaroveggienza di previsione, premonizione così forte per essere assolutamente sicuri, però è molto verosimile, è molto verosimile perché se non subentrano varianti più pericolose e sembra improbabile perché in genere i virus hanno interesse a non segare il ramo su cui stanno seduti, per cui non hanno interesse strategico a far morire l'ospite, il virus non è un predatore, è un parassita, quindi se muore l'ospite tutti i virus che hanno il corpo muoiono e non possono trasmettersi, quindi l'interesse della stirpe è quello della convivenza con l'ospite e non a caso c'è stata una certa attenuazione, maggior diffusibilità, questo sì, ma non necessariamente maggior virulenza, maggior aggressività, anzi diminuzione, quello che in genere accade nelle pandemie e nell'epidemia e in questo caso vediamo che per Omicron il governo olandese ha commissionato uno studio a prestigiosa Università dell'Olanda perché voleva capire se adesso fosse il caso di passare dal 3G che in olandese sono l'iniziale di vaccinato, guarito o tamponato all'introduzione del 2G, cioè dare il Green Pass solo ai vaccinati e ai guariti, cioè il Green Pass rafforzato come lo intendiamo anche in Italia e la risposta dell'università è stata ora sarà più difficile difendere una strategia 3G o 2G basandosi sulla nostra ricerca, perché? Perché non serve più, cioè non riesce il Green Pass a frenare la Omicron e detto da me adesso che gli anziani fragili sono stati vaccinati anche con la terza dose che gli dà perlomeno nei confronti della malattia grave per qualche mese una protezione maggiore, non so quanto sia conveniente tutta questa ossessione di evitare l'infezione, soprattutto per chi ne paga un prezzo minimo, cioè i giovani e i bambini se la facciano diventano immuni con un'immunità più robusta e sono meno dannosi in famiglia con i nonni proprio perché i nonni sono ancora sotto l'effetto protettivo della terza dose e a quel punto i giovani diventano immuni in maniera più duratura e sono un vantaggio per tutta la comunità, ecco con il Green Pass anche rafforzato, l'università olandese ha risposto al governo sono inutili per fermare la diffusione del Covid. Allora a proposito di diffusione di Covid, tamponi rapidi, vaccini e Green Pass, quale è lo strumento più affidabile per combattere questa pandemia? Allora per combatterlo secondo me nessuno dei tre, per dare delle garanzie di non contagiosità della persona che abbiamo di fronte il tampone, il tampone dà delle garanzie che rispetto alla durata che viene data al Green Pass, adesso lo danno persino dopo la terza dose a tempo indeterminato, mediamente dà una protezione maggiore, ecco quindi una protezione ho sbagliato a dire, dà una garanzia maggiore di non essere contagioso, cioè e non è una garanzia assoluta, quindi una delle protezioni deve usare se sta vicino a fragile, però confrontando le due garanzie con Omicron la garanzia maggiore la dà il tampone, ecco dopodiché io non sono a favore della proliferazione dei tamponi, penso che se ne facciano assolutamente troppi, ci sia un mega business anche sotto i tamponi e che bisognerebbe essere molto molto più tranquilli rispetto a questa situazione e a scuola lasciare che i bambini, gli asintomatici stiano in classe, non se ne parla neanche dal mio punto di vista, adesso che gli anziani sono con la terza dose che ha aumentato un po' la protezione, gli asintomatici stanno in classe, se uno è malato è giusto che stia a casa come è sempre stato, finché è malato e quando è finito di avere i sintomi della malattia ritorna in classe, viva Dio. Alla luce dei vostri studi quali strategie si dovrebbero intraprendere per uscire dalla pandemia? Parliamo di strategie ma anche di cure che si possono adottare. Allora grazie della domanda perché oltre alle strategie, noi ne proponiamo cinque di strategie, vedrà che le ultime due riguardano proprio le cure, quindi magari un piccolo messaggio sulle cure infine lo do. Allora la prima strategia, noi li abbiamo chiamati cinque caposaldi strategici, ecco la prima è la prevenzione primaria ambientale, vale per tutti evitare di tagliare gli alberi, di perdere biodiversità, evitare gli allevamenti intensivi che sono una fonte micidiale di inquinamento e di perdita di sostenibilità per il pianeta, cioè e cosa possiamo fare noi per evitare gli allevamenti intensivi? Smettere di mangiare carne, in particolare carne bovina, carne suina, cioè quello sarebbe un colpo importante nella direzione della sostenibilità e interrompere le politiche energetiche basate sui combustibili fossili. Poi questo diminuirebbe il PM2,5 e PM10, ridurre anche il traffico veicolare, avere delle auto elettriche, avere delle forme di mobilità alternative ogni volta che si può camminare, camminare ci porta anche al secondo pilastro strategico, la prevenzione primaria con comportamenti salutari, in grado di ridurre i rischi sia di malattie croniche in genere che stanno sotto la gravità della Covid, sia anche di quelle patologie infettive, Covid compresa, che hanno un decorso più grave in presenza di stili di vita per lungo tempo ma anche nel breve che siano non congrue, per cui l'attività fisica è estremamente protettiva anche nel medio breve periodo, no al fumo, ovviamente l'alimentazione si può decidere di fare le cose giuste già da questa sera, l'alimentazione con cibi integrali per esempio, cereali integrali, riduce del 20% la mortalità da infezioni, compresa la Covid, subito, quindi cominciamo a fare le cose giuste da adesso. Terzo caposaldo, i vaccini, certamente non vengono evitati ma devono essere indirizzati verso chi ne ha più vantaggi che svantaggi, cioè quindi sui soggetti realmente a rischio, il contrasto a cure sbagliate che possono favorire malattie infettive e al primo posto sta quella irresponsabile continua richiesta di ridurre al paracetamolo i trattamenti precoci e di mettersi la mascherina quando si è infetti. Notate bene, io non sono qui a dire che le mascherine non servono, quando anche uno è infetto e quindi può emettere dei virus o altri germi, è chiaro che nell'interazione con altri gli serve tirar su quella mascherina e anche all'altro, ma quando l'infetto povero lui sta a casa sua, si mette in una stanza da solo se ce l'ha e apre la finestra che c'è anche bel tempo o apre periodicamente d'inverno, si copre bene e respira, non tiene la mascherina che per 15 volte ogni minuto quando espira tiene dentro una gran parte dei germi che doveva buttare fuori e lui se li rinala con la successiva ispirazione, perché in questo modo si aggrava, quindi mascherine usate con razziocinio quando servono il paracetamolo non utilizzarlo e utilizzare invece delle cure appropriate, sicure, sostenibili e con delle ragionevoli prove di efficacia, che sapere che ci sono toglie la paura e le potete andare a vedere sul sito cmsindipendente.it, abbiamo fatto una conferenza stampa seminario proprio sulle cure appropriate, quella del 23 di ottobre, con partecipazione anche di un po' di giornalisti, dei politici che hanno fatto degli ottimi interventi e quindi andatevele a vedere. Prima di concludere vi dico due cose, naturalmente sempre quello che vi sto per dire, discutetelo con il curante perché io vi dico quello che in letteratura ha dato dei gran buoni risultati, però non sono al posto del clinico che vi ha in cura e neanche voi al posto vostro, quindi gli interessi di aver la salute sono vostri, il medico curante e il vostro medico di famiglia e quindi parlatene con lui sperando che lui sia sensibile a quello che gli porterete. Io ho scelto le sostanze con questi criteri di massima, dovevano essere di efficacia molto promettenti in base a studi di disegno, a ricerche di disegno valido, di alta validità. Poi anche dove le prove non siano definitive, noi sappiamo che di definitivo c'è poco nella scienza, cioè quando anche le prove fossero importanti ma non ancora conclusive, guardare che ci siano anche cinque altre condizioni che io vi enumero che sono stati il nostro filtro, sostanze sicure, assolutamente sicure, biologicamente plausibili che facessero l'effetto per cui erano somministrate fosse ragionevole aspettarselo, economiche perché se costano poco anche alla comunità c'è un bel vantaggio perché può utilizzare quel equivalente di risorse per qualcos'altro. Vi faccio l'esempio, poi vedrete c'è il monopiravir che è un prodotto della Merck orale, è già un vantaggio rispetto agli anticorpi monoclonali piuttosto che a rendesivir perché quelli sono da fare con infusione, molto scomodi, sono molto costosi, 2.000 euro monoclonali, 3.000 rendesi, invece il monopiravir è solo, solo, 615 euro e riduce del 30% il combinato della mortalità dei ricoveri. C'è anche però per esempio fluvoxamina che è stata approvata, cioè è stata dimostrata efficace in uno studio che non ha niente da invidiare, anzi semmai è persino più bello e più grande di quello che ha fatto Merck con il monopiravir e che ha ridotto il monopiravir del 30%, fluvoxamina del 32%, la si usa da tanto tempo e quindi è assolutamente sicura, testata, per 10 giorni, quanto costa? Quell'altro 615 euro, questa 7,3 euro per 10 giorni di cura, ce n'è di risorse risparmiate che si possono utilizzare per qualcosa di più indispensabile, allora che abbiano anche l'assenza di mega sponsor commerciali e che non abbiano ricercatori con grandi conflitti di interessi. Questi criteri, quello che vi mostrerò nella tabella che segue, non esauriscono le cure precoci di efficacia interessanti con questi requisiti, cioè ci sono altre cure efficaci, però non hanno tutti questi requisiti. Vi ho detto, i monoclonali in qualche misura, uno o due anche economico, hanno un senso, però costano 2.000 euro, hanno mega sponsor commerciali che stanno dietro agli studi che li hanno approvati, non hanno le caratteristiche che ho utilizzato come filtro. Questa tabella le vedete, poi le trovate anche in quel sito che vi ho indicato con tutti i dettagli, ma qui ve ne ricordo solo, ecco, vediamo, mindometacina, non l'ho messo in tabella perché qui in tabella facevo vedere la riduzione di mortalità. Quando è verde c'era una riduzione importante e significativa. Le prime sei sostanze danno una riduzione significativa della mortalità totale, che è quello che uno ha più a cuore, morire di meno. L'indometacina ha avuto un successo formidabile rispetto al paracetamolo, non ci sono stati morti neanche nel gruppo che prendeva il paracetamolo, avevano le stesse terapie di base, in aggiunta al gruppo sperimentale si dava questo antinfiammatorio che è anche azione antivirale, dalla terza giornata sono stati tutti bene, nessuno è andato in, ha avuto necessità di avere un supporto ventilatorio di ossigeno, mentre con il paracetamolo su 108, 20 hanno avuto bisogno di ossigeno e supporto ventilatorio, oltre un sacco di casini in più. Vi faccio vedere, l'iodopovidone che cos'è? è il betadine, però non fate da voi, parlatene col medico, però dovete sapere che questa sostanza, vedete 10 RCT sono gli studi di più alta validità, randomizzati e controllati, ce ne sono anche alcuni che hanno dei dati di mortalità, in particolare il più grande, che ha ridotto dell'88% la mortalità, quindi questi sono i miglioramenti nel trattamento precoce, nel trattamento tardivo, sulla mortalità quello più grande, più bello, ha ridotto dell'88%, scusate se è poco, questo qui è il modo di utilizzo, bisogna comprarlo in farmacia, è già un collutorio all'1%, parlatene col medico e si mette due gocce nell'occhio ogni quattro ore, nel naso, questo usa lo spray, però mettete sempre col contagocce, quattro gocce nelle narici e uno sciacquo sputando bene perché è per uso esterno, all'1% il colluttore in farmacia, oppure pigliate il betadine che lo trovate dappertutto, c'è anche la cosigenata che ha fatto degli effetti però non forti come il betadine e il betadine lo comprate in farmacia, in tal caso spendete un po' di più, è già all'1% oppure lo prendete al 10%, dovete diluirlo di 10 volte con l'acqua, basta, andate avanti ogni quattro ore per 10 giorni e non c'è nessun germe che resista, quindi abbassate la carica virale, poi da solo magari non vi limitate a quello, ma vi dà un vantaggio formidabile nell'abbassare la carica virale ai primi sintomi e vi faccio vedere un'altra sostanza, ho finito poi, la melatonina, vi faccio vedere perché è interessante, la melatonina è qualcosa che già molti hanno in casa perché di tanto in tanto quando si svegliano di notte la prendono, favorisce il riaddormentamento, guardate che benefici che dà, poi se si guarda sulla mortalità quasi l'80% di riduzione della mortalità, se addirittura si va sullo studio randomizzato più interessante alla ridotta del 93% in pazienti gravi, in pazienti che erano tutti in ospedale o gravi o critici, quindi è spettacolare il fatto che si aggiunga alle altre cure, cure che erano più o meno le stesse, che questo è uno studio fatto in Iraq, ma usavano le stesse terapie che usiamo noi nei nostri ospedali, praticamente quasi le stesse cose e in più il gruppo sperimentale prendeva in questo caso 10 milligrammi, una dose un po' alta, ma di di sera, di notte, gente critica stava anche meglio la notte dormiva, hanno avuto dei miglioramenti incredibili, questo rispetto alle trombosi, in diciassettesima giornata avevano la metà delle trombosi, l'11% contro il quasi il 24% e rispetto alla mortalità ne è morto solo uno con melatonina su 82, mentre su 76 ne sono morti 13 nel gruppo di controllo, quindi ha avuto dei benefici elevatissimi che è giusto che i medici conoscano, quelli che non lo sapessero, glielo dite voi che avete assistito a questa presentazione, se vogliono i trial trovano tutto, perché qui io dove ho mostrato questo qui c19melatonin.com trovano anche l'insieme degli studi clinici in inglese che hanno dato questi risultati, se andate sugli odopovidone, trovate tutto qua, è l'ultimo, c19 early, c19 covid19 sarebbe early presto punto com, qui ci sono tutte le sostanze che hanno dato in varia misura vantaggi e io ho selezionato quelle a basso costo, sicure e con ragionevoli prove di efficacia.